Benvenuti nel mondo di Garmin. Garmin è un'azienda americana fondata nel 1989 che produce accessori elettronici per ogni tipologia di settore. Tra i prodotti di maggior successo del marchio ci sono gli smartwatch pensati per lo sport e il fitness. Gli orologi Garmin rappresentano il connubio perfetto tra tecnologia e sport. Infatti, Garmin ha iniziato a produrre smartwatch nel 2003, con il lancio del primo orologio Forerunner. Da allora, il marchio ha continuato a sviluppare nuovi modelli per soddisfare le esigenze degli atleti di tutti i livelli e delle persone attive. Gli orologi Garmin sono dotati di tecnologie avanzate come il GPS, il GLONASS e il monitoraggio della frequenza cardiaca al polso. Queste tecnologie permettono di monitorare la propria attività fisica in modo preciso e dettagliato, fornendo informazioni come la distanza percorsa, il ritmo, la velocità, le calorie bruciate e molto altro ancora. Grazie a queste informazioni, gli utenti possono monitorare il loro progresso e impostare nuovi obiettivi. Ma non solo, gli orologi Garmin offrono molte funzioni avanzate come la possibilità di creare allenamenti personalizzati, la visualizzazione delle mappe e delle rotte, il monitoraggio del sonno e molto altro ancora. Grazie a queste funzioni, gli orologi Garmin sono l'ideale per gli atleti che vogliono monitorare la propria attività fisica in modo preciso e dettagliato. Gli orologi Garmin sono inoltre molto utilizzati per la navigazione in ambiente outdoor, grazie alle funzioni come la bussola, l'altimetro e il barometro. Queste funzioni permettono di orientarsi e di monitorare le variazioni di altitudine in modo preciso, rendendo gli orologi Garmin l'ideale per gli appassionati di escursionismo, trekking e alpinismo. Tra i modelli più apprezzati dagli utenti ci sono il Forerunner 945 e il Fenix 6. Ognuno di questi modelli ha caratteristiche uniche e specifiche, ma tutti offrono la massima qualità e affidabilità. Il Forerunner 945 è un orologio GPS avanzato che offre funzioni per il monitoraggio delle performance. Grazie alla tecnologia GPS, il Forerunner 945 può rilevare la posizione esatta dell'utente e fornire informazioni sulla distanza percorsa, il ritmo e la velocità. Inoltre, tutti gli orologi Garmin offrono la possibilità di personalizzare gli allenamenti e di monitorare la propria attività fisica in modo preciso e dettagliato. Grazie a queste funzioni, gli utenti possono raggiungere i loro obiettivi in modo più efficace e veloce.